Buongiorno, benvenuti a Mezzogiorno di Fuoco. Oggi torniamo a parlare di un vecchio cavallo di battaglia del quale ci siamo occupati spesso, ma che è tornato, diciamo così, sotto i riflettori in questo periodo per un'accelerata che stanno dando alcune amministrazioni e che sta dando anche il Partito Democratico, ad esempio della Toscana e anche la Regione. Parliamo della fusione o dell'unione dei comuni, poi cercheremo anche di fare del distingo da questo punto di vista. Lo facciamo con Sergio Chienni, sindaco di Terra Nova Bracciolini, provincia di Arezzo, vicepresidente dell'Anci Toscana. Buongiorno. Sempre in provincia di Arezzo, la Bibiana, arriva Daniele Bernardini, sindaco appunto. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo, fusione dei comuni, a riportare, diciamo così, la questione sotto i riflettori è stata l'IRPET che qualche tempo fa ha rilanciato un vecchio studio che disegnava una Toscana con 50 comuni e insomma vuol dire un bel taglio rispetto all'attuale. Facciamo il punto. Da 279 a 50 il passo è lungo ma sembra quella dell'accorpamento l'unica strada possibile per mantenere in vita i comuni anche in Toscana. A macchia di Leopardo la discussione sulla possibilità di accorpare le varie amministrazioni nella nostra Regione va avanti da oltre 20 anni. Nel Valdarno Aretino, ad esempio, gli stessi temi che oggi sono patrimonio di tutti erano stati oggetto di uno studio puntuale completato oltre dieci anni fa, analizzato con attenzione e poi riposto in un polveroso cassetto perché sembravano gli stessi amministratori ancora poco propensi ad affrontare l'idea. Oggi, con sempre meno risorse a disposizione, anche loro si stanno pian piano convincendo che solo unendo le varie realtà si può pensare di sopravvivere e così scende in campo l'IRPET, massimo organismo regionale in fatto di economia, che numeri alla mano spiega quanti vantaggi potremmo avere dividendo per sei l'attuale numero di comuni. Attenzione, non si sta parlando di fare paesi unici. Ognuno manterrebbe la propria storia, le proprie caratteristiche, anche se con un solo municipio. Allora, si riparte da questo studio dell'IRPET con 50 comuni, ovviamente è un po' una provocazione perché sembra difficile, almeno così, pronti via di arrivare a questo traguardo, ma qualcosa si muove. Chienni, nel Valdarnaritino si parla da tantissimo tempo di questo comune unico che metterebbe insieme prima erano dieci, ora sono nove realtà perché nel frattempo due comuni si sono già fusi. Lei intanto un passettino l'ha fatto. Sì, in questi giorni abbiamo lanciato una proposta con Moreno Botti, che è il sindaco di Loro Ciuffena, di un percorso di collaborazione e di integrazione progressiva tra i due comuni. Nella consapevolezza però che poi la parola giustamente e ovviamente spetta ai cittadini. I nostri due territori hanno delle affinità e dell'omogeneità territoriali, in particolar modo nelle zone collinari dove l'economia rurale e recettiva è particolarmente importante sia a Loro che a Terra Nuova e le caratteristiche veramente sono simili da questo punto di vista. E anche storicamente i nostri sono due comuni vicini, quindi ci siamo sentiti intanto di iniziare un percorso che ci vedrà collaborare in alcuni settori e poi vedremo quali potranno essere gli sviluppi anche riscontrando che le sono la sensibilità e i sentimenti dei nostri cittadini. Nel Casentino, situazione più o meno analoga, anche se c'è già stato un referendum in questo caso ai cittadini, la parola è già stata data per fare un comune unico dell'intera vallata. Andò male? Ci si riprova adesso, sindaco? Andò male sicuramente perché fu impostato in modo errato. Andò male, diciamo, per chi lo aveva proposto, insomma, no? Perché era stato particolarmente politicizzato e anche perché erano stati inseriti i comuni di Subbiano e Capolona che notoriamente non fanno riferimento al Casentino ma all'area retina e quindi quello fu essenzialmente il motivo per cui andò male. Probabilmente non eravamo pronti. Oggi la situazione è cambiata, c'è una sensibilità diversa in generale. Ora è più una questione delle forze politiche ma anche di personalismi che purtroppo incidono su questo. Tant'è che c'è una discreta confusione in questo momento su questo tema in Casentino. L'idea dopo il fallimento della fusione a 13 è stata quella anche di vedere di fare un percorso di avvicinamento appunto al Comune Unico andando prima a delle fusioni parziali che avrebbero portato i comuni a 3-4 in Casentino. Poi di qui si è sviluppata una serie di proposte. Siamo partiti i comuni di Bibbiena con il Comune di Ortignano che è uno dei comuni più piccoli. I due consigli comunali d'accordo su questa fusione. Dopodì contemporaneamente si è inserito un comitato di cittadini di Chiusi della Verna che ha proposto l'accorpamento anche in questa fusione del Comune di Chiusi. Ha fatto una petizione che ha raccolto un numero importantissimo, quasi mille firme, pensando di sensibilizzare l'amministrazione a unirsi. In questo percorso non c'è stata questa sensibilità da parte dell'amministrazione di Chiusi della Verna di andare verso un referendum e quindi la cosa e la regione a sua volta non ha avuto ovviamente il coraggio di andare avanti in questo e quindi questo è fallito. Il comitato si è nuovamente costituito, ha raccolto le firme con una proposta di legge popolare e ripresentando la proposta in regione ma contemporaneamente per probabilmente creare un po' di confusione altri tre comuni che sono Chiusi della Verna, Chitignano e Castelfo Cognano hanno con i consigli comunali in fretta e furia deciso. Sono andati per la loro strada insomma. E quindi la sensazione è quella che si cerchi di creare più confusione possibile per non far cambiare le cose. È così Sindaco perché insomma leggendo tra le righe nelle parole di Bernardini insomma pare che ci sia anche un po' una volontà in alcuni casi ad accelerare in altri a tirare indietro eppure l'organismo regionale del suo partito del PD con il segretario Parrini su tutti più volte è ribadito su questo tasto insomma sembra una priorità. No assolutamente c'è una necessità di ridurre il numero delle amministrazioni comunali questo in tutto il territorio nazionale ci sono casi estremi come il Piemonte dove sono tantissimi comuni sotto i 5 mila abitanti e per spiegarlo anche ai cittadini e incrementare il livello di conoscenza e di consapevolezza gestire un comune anche in termini di personale con tutte le complessità burocrate e normative ci sono oggi con un numero estremamente ridotto di dipendenti non è affatto semplice nel senso che nei comuni specialmente quelli molto più piccoli ci troviamo in presenza di personale che fa più funzioni ma che si trova in difficoltà a essere aggiornato e a rispondere a tutte quelle che sono le necessità ripeto che vengono da percorsi procedurali spesso anche complessi quindi anche da questo punto di vista qui la fusione è necessaria e per la diffusione quindi le unioni dei comuni sembra già una fase superata ma questa è una valutazione che faccio da Sergio Chienni non da vicepresidente dell'Anci Toscana prediligo sicuramente il percorso di fusione rispetto alle unioni perché mi sembra più efficace nel senso che se si mira effettivamente all'efficienza, all'efficacia e anche al contenimento della spesa la fusione dei comuni è più idonea perché l'unione dei comuni, diciamo che i comuni restano in essere e c'è una sovrastruttura che governa poi il procedimento mentre nella fusione dei comuni effettivamente si uniscono due realtà non si ingenerano organismi in più e quindi da questo percorso sicuramente nasce degli aspetti estremamente virtuosi uno lo dicevo è che anche in termini di personale l'unione fa la forza io solo per fare un esempio del mio comune fino a 5-6 anni fa eravamo circa 95 dipendenti oggi siamo 77 quindi nel giro di 5 anni c'è una riduzione di quasi 20 unità perché le norme ti impediscono di fatto di riassumere quindi in questa prospettiva nelle difficoltà economiche e nella ristrettezza anche di personale che versano le amministrazioni pubbliche è importante per l'appunto fare sinergia perché davvero in questo contesto l'unione fa la forza fusione o unione, sindaco Bernardini, in questo senso? io non ho mai avuto dubbi tant'è che in Casentino existe l'unione e il comune di Viena non è entrato dentro l'unione a suo tempo nel 2010 quando furono abolite le comunità montane fu fatta la scelta in Casentino di trasformare praticamente la comunità montana in unione di comuni cambiando semplicemente il nome noi in quell'occasione la mia amministrazione è decisa di non entrare dentro a far parte dell'unione proprio per le motivazioni che diceva Kenny cioè creare una sovrastruttura senza ridurre i comuni si sovrappongono innanzitutto delle competenze e si incrementano anche i costi e non le efficienze sicuramente questo oggi la situazione in Casentino dell'unione lo sta dimostrando nell'analisi di cosa vuol dire fare il sindaco oggi ha una valenza importante anche quel famoso patto di stabilità del quale tante volte abbiamo sentito parlare che nella scorsa legge di stabilità quella approvata prima di Natale insomma sembra aver subito delle rotture quelle tante volte chieste dal presidente del Consiglio su questo andiamo a sentire il presidente dell'Anci Toscana il sindaco di Prato Biffoni la legge di stabilità grazie appunto all'allentamento del patto di stabilità sblocca solamente sul territorio toscano investimenti per circa 350 milioni di euro sul territorio scuole, strade, impianti sportivi insomma tutte quelle richieste quelle esigenze che i cittadini quotidianamente manifestano ai sindaci e che grazie a questa operazione della legge di stabilità finalmente iniziamo a poter dare come commentavamo qualche giorno fa anche con un vostro collega Renzi quando faceva il sindaco lo chiamava patto di stupidità ha mantenuto quell'idea che ne pensa Chini? Sì, indiscutibilmente nell'ultima legge che sono state emanate dal governo c'è un miglioramento sensibile per i comuni perché si è passati a un diverso saldo che è il saldo di competenza senza entrare nei tecnicismi però di fatto come confermava il presidente dell'Anci Matteo Biffoni si liberano risorse per centinaia di milioni di euro e fra l'altro fa deroga rispetto a comunque regole che sono migliorative l'edilizia scolastica che è particolarmente importante in tutto il territorio nazionale quindi sì io gli do un riscontro assolutamente favorevole rispetto a questo tipo di provvedimento bisognerebbe probabilmente fare qualcosa in più invece in termini di personale perché solo per dare un dato i vincoli assunzionali che fra l'altro insomma anche la Corte dei Conti della Corte Costituzionale ha tra virgolette in parte contestato fanno sì che oggi gli under 40 nelle amministrazioni pubbliche sono meno del 12% e che invece gli over 50 oggi sono oltre il 60% questo testimonia che non c'è ricambio generazionale in una pubblica amministrazione però questo crea dei problemi perché ci sono tante persone che sono a fine del loro percorso lavorativo e che non avranno fatto tra virgolette trasmissione di competenze rispetto a nuove generazioni quindi giusto stare stretti cioè non sa abbondare nell'assunzione di personale ma avere il numero giusto che ti consente una gestione lineare e corretta dei procedimenti Si parla spesso di come mandarla via la gente il caso delle 48 ore per i furbetti del cartellino insomma è stato sui giornali in questi giorni ma ci sarebbe anche bisogno di prendere qualcuno Sindaco? Ma io concordo anche qui con il Sindaco sul fatto che ci sarebbe necessità di un cambio generazionale perché effettivamente i dipendenti dei comuni hanno l'età media comincia ad essere avanzata quindi anche per una questione di mutate modalità di gestione e di altre cose ci sarebbe una necessità ma ma è anche vero che probabilmente è stato abbondato nel passato riguardo al numero dei dipendenti pubblici in generale nei comuni quindi io credo che la stretta sia necessaria io quando sono arrivato sei anni fa in comune di Bibiana c'erano quattro cinque concorsi che erano già stati indetti non ne abbiamo dato corso francamente abbiamo fatto tutto anche senza quelle cinque persone in più quindi probabilmente una sovrabbondanza c'era e la necessità quindi di calmerare le assunzioni io credo la condivido e in questo ragionamento poi ci sono tutte quelle persone che lavoravano nelle vecchie province così introduciamo anche questo nuovo argomento che devono essere e stanno proprio in questo periodo trovando una nuova occupazione si segue le competenze quindi molti sono finiti alla regione perché gran parte delle competenze delle vecchie province sono state riassunte dalle regioni qualcosa però e qualcuno di questi dipendenti può andare anche ai comuni come ci si trova in una zona ad esempio come la sua Chienni in cui la provincia di fatto c'è ma praticamente poi non c'è più dove c'è un'area metropolitana vicinissima che è quella fiorentina e che in tanti vorrebbero traghettare il Valdarno proprio in quell'area si rischia di rimanere un po' a metà del guado posso fare all'inizio un esempio riallacciando un discorso personale proprio delle province io faccio l'esempio del mio comune noi siamo sotto due unità per quanto riguarda la polizia municipale e il rapporto alla popolazione è evidente essendo un servizio importante soprattutto di presidio all'uscita delle scuole e tanti altri compiti di sicurezza stradale essere sotto due unità crea alcune difficoltà la procedura oggi in essere e mi riferivo anche a quei vincoli assunzionali che abbiamo prevede che noi siamo obbligati a riassorbire il personale della provincia il problema nel nostro caso è che non c'è personale della provincia in quella figura che noi stiamo cercando ossia due figure di polizia municipale purtroppo c'è l'obbligo di poter assumere solo dalle province e nel frattempo noi restiamo senza due vigili che per la sicurezza ripeto dei nostri alunni che escono dalle scuole piuttosto che delle strade di quant'altro ci crea effettivamente dei problemi ecco in questo senso dicevo ci vorrebbe diciamo un po' di elasticità esatto un po' di elasticità perché è giusto il criterio di riassorbire il personale delle province perché bisogna cercare di non incrementare il numero complessivo cioè prima cerchiamo di recuperare chi non ha più un lavoro una funzione nell'ente di appartenenza perché giustamente dall'altro l'elasticità ecco per cercare di riassorbire e di riintegrare le figure che nei comuni mancano da questo punto di vista la fase transitoria chiudo perché non vorrei essere troppo lungo del passaggio diciamo di funzioni dalla provincia alle regioni dalla provincia ai comuni è stata sicuramente complessa e tutt'oggi stiamo cercando di gestirla al meglio un po' fra l'altro di responsabilità sono toccate anche all'unione di comuni di cui parlavamo prima perché la forestazione per esempio nel nostro territorio nel valdarno retino ce l'ha l'unione dei comuni che vede impegnate Castelfranco Pio Andisco Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi quindi ecco è stata una fase complessa e ancora c'è necessità di assestarsi questa nuova provincia senza provincia Bernardini lei come la vede perché insomma rimane quest'area in particolare se analizziamo la provincia di Arezzo con una parte il valdarno che preme bussa le porte nella città metropolitana per entrarci insomma e tutto il resto che rimane un po' così sì mi sembra abbastanza confusionare a tutti i livelli questa cosa che è partita probabilmente senza essere stata studiata dettagliatamente prima io credo che questa situazione e questo fatto che comunque pian piano le province scompariranno anche per questo motivo creare dei comuni più forti più strutturati sarebbe importante perché se no a casa vostra Arezzo fa un po' la parte del padrone il casentino con 35 mila abitanti e 10 comuni non vedo che peso politico possa avere senza appunto una provincia e andarsi a rapportare direttamente con la regione questo è un motivo in più secondo me perché l'idea delle fusioni dei comuni debba andare avanti la colorazione politica in tutto questo ragionamento c'entra qualcosa e mi riferisco ovviamente a quello che è successo all'amministrativa di Arezzo la colorazione politica in realtà in alcuni casi conta relativamente faccio l'esempio per quanto riguarda prima parlavamo di fusioni in realtà nel casentino e di là del colore politico c'è un'aspirazione verso le fusioni poi magari c'è da trovare un'intesa per quanto riguarda quali sono i comuni coinvolti che vanno a fusione poi ci sono in altre circostanze che la colorazione conta ne approfitto un secondo per integrare un ragionamento rispetto alla domanda che ponevi su quello che è il ruolo diciamo del Valdano in questo momento il Valdano si trova in una situazione molto particolare perché da un lato apparteniamo al cosiddetto ambito territoriale ottimale della Toscana del Sud questo per quanto riguarda i rifiuti ma anche per quanto riguarda ben presto una riscarica in casa esatto e ben presto anche per quanto riguarda l'ASL nel contesto della riforma sanitaria dall'altro per esempio per le elezioni per quanto riguarda il Parlamento invece siamo stati annoverati nel collegio che è insieme alla zona più fiorentina quindi ecco quello che va da Montelupo alla Terina e chissà perché noi ci troviamo diciamo in un ambito in questo momento particolare ecco per usare una battuta tra lo 055 e lo 0575 a volte si usano i prefissi telefonici e anche questo insomma è un elemento di complessità che dobbiamo valutare bene come amministratore lei da che parte sta? dove lo vede il Valdano? 055 o 0575? in realtà credo non si possa fare un ragionamento onnicomprensivo lo dico con grande sincerità anche qui da Sergio Chieni non da posizione né della conferenza dei sindaci né del Lanci perché ci sono comuni come per esempio la Terina e Pergine che secondo me propendono più verso l'Aretino rispetto che al Fiorentino hanno comunque una distanza anche rispetto al sistema sanitario che può gravitare su Firenze ci sono altri comuni come può essere San Giovanni Valdano che per contiguità territoriale alla provincia fiorentina per collegamento ferroviario il Marzocco è a San Giovanni Valdano come a Firenze è un fuoricambio ha fatto il palazzo di San Giovanni come palazzo vecchio esatto oltre alle tradizioni diciamo quelle che sono le terre nuove fiorentine però San Giovanni per esempio proprio ci confine quindi probabilmente ha un'attitudine verso quel territorio ecco anche in questo contesto è difficile fare ragionamenti generalizzati che ne pensa Sindaco citava il caso dei rifiuti ma ce ne potrebbero essere tanti altri anche in questo ragionamento associato il discorso dei servizi come vengono gestiti in questo in questo ambito in questo ambito ampio ma io ho molti dubbi rispetto a questi ambiti perché comunque oltretutto riferendosi in particolare al nostro ambito Arezzo Siena Grosseto è un territorio è un ambito difficile da mettere insieme cioè cosa ci incastrano la costa Grossetana con l'isola del Giglio esatto è difficile e lo dimostra il fatto che comunque anche la gestione per esempio dei rifiuti è stata è peggiorata a livello a tutti i livelli sia di costi che di gestione con la nuova con il nuovo sistema anche all'invento per quanto riguarda la riforma sanitaria io Aspetti un attimo ci arriverà un secondo la riforma sanitaria che faccio sentire anche Rossi ha detto che i rifiuti è peggiorata è d'accordo Chieni lei che insomma i rifiuti qualcosa ne sa io vorrei fare un ragionamento che tocca i rifiuti ma tocca anche gli altri sistemi ossia da un lato c'è l'esigenza di gestire con delle economie di scala e quindi territori più ampi dall'altra quando si gestiscono territori più ampi si ha più difficoltà avere un rapporto tra il territorio e chi magari gestisce i servizi pubblici rispetto a quello che era il rapporto impostato in precedenza per esempio in Val D'Arno c'era CSA in Casentino c'era la Casentino Servizi erano aziende diciamo che avendo un orizzonte territoriale più limitato e più contingentato il rapporto tra amministrazione pubblica e società era più diretto e più immediato diciamo sia con le figure apicali che con chi tecnicamente gestiva proprio il servizio mentre quando si allarga il bacino come è in questa circostanza qui si perde magari di omogeneità territoriale e quindi si può risentire da questo punto di vista di un panorama che è estremamente variegato e diverso dall'altro continuare a conservare piccole realtà non è semplice nemmeno in termini di società perché poi a volte ci sono da fare degli investimenti e di cose che le piccole società hanno un po' più di difficoltà a fare quindi trovare la giusta misura in questo caso non è semplice diceva la riforma sanitaria approvata dopo una maratona in consiglio regionale che vi abbiamo raccontato mille volte prima di Natale sentiamo il governatore Rossi noi facciamo questa riforma per garantire la sanità toscana che in un ambito di difficoltà di ristrettezze in una situazione nella quale il personale è stato chiamato anche a fare sacrifici se abbiamo tenuto anche in questi anni in cui le risorse sono diminuite lo si deve al grande impegno del personale però in questo ambito il servizio sanitario nazionale è sempre un punto di riferimento per i cittadini è una certezza per chi ha da curarsi è ancora affidabile e dentro questo servizio sanitario nazionale la Toscana nei parametri nelle valutazioni che non facciamo noi ma che fanno altri a me piace dire si colloca nella fascia alta in realtà arriviamo primi è ancora così è ancora una sanità o sarà ancora una sanità da primo da dieci e l'oro da primo posto in questa nuova riorganizzazione Bernardini la fa un po' paura? mi auguro di sì francamente mi auguro che sia sempre una sanità da primissimi posti me lo auguro come cittadino me lo auguro come amministratore mi fa chiaramente un po' paura ma in particolare mi fa paura questo ambito che non mi sembra e ho avuto occasione più volte di dirlo anche durante le fasi appunto delle proposte della legge in varie occasioni al di là della legge che non 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 critico nel 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 suo insieme ma la divisione di questi ambiti in particolare il nostro ambito così come la vedo difficile per la gestione dei rifiuti la vedo molto difficile anche per quanto riguarda la gestione di sanità perché se questo è l'ambito dentro il quale si debbono svolgere delle attività sanitarie io mi chiedo anche qui le distanze questo dovranno prevedere una serie di di duplicati diciamo di di attività nei vari ospedali in questo territorio non penso che si possa pretendere che per fare un certo tipo di attività chirurgica da Bibbiena si vada a Corseto e in questo caso ovviamente il tema si ripropone se si parla di Valdarno e Chienni nello stesso diciamo filone della contiguità il Valdarno è vicinissimo a Firenze vicinissimo soprattutto all'area Fiorentina quindi se il famoso esame da tetanoblacciolini non si può andare a farlo a Grosseto magari se ci fosse l'elasticità o se c'è un'elasticità con le altre aziende lo si può fare a Firenze a Careggi piuttosto che a fine Valdarno allora nessuno può porre dei vincoli rispetto a dove i cittadini vogliono andare a curarsi e nemmeno ci saranno successivamente nel senso se uno sceglie di andare a operarsi in una struttura sanitaria andrà in quella struttura sanitaria non ci saranno vincoli in tal senso ci sono due riflessioni secondo me da fare la prima come diceva il Presidente Rossi purtroppo prendere atto di una realtà che anche da un punto di vista risorse economiche è mutata e quindi bisogna cercare di ottenere il miglior risultato con le risorse a disposizione la Regione Toscana investe grandissima parte delle sue risorse economiche proprio giustamente nel settore sanitario questa è la prima riflessione che bisogna fare la seconda riflessione è che molto conterà anche la declinazione e l'individuazione delle cosiddette zone di stretto perché mentre in precedenza c'era un numero anche abbastanza elevato di zone di stretto la riforma prevede che proprio in questo periodo qui si vada a individuare un numero più ridotto di zone di stretto e quindi anche lì sarà importante cogliere le opportunità della riforma però conservando l'omogeneità territoriale cioè perché come oggi l'omogeneità territoriale faccio l'esempio del Valdano Aretino è garantita perché è una zona ovviamente che ha tratti comuni domani se questa zona eventualmente dovrà ampliarsi ovviamente dovrà ampliarsi in una direzione che ne conservi questa omogeneità e questa contiguità l'assessore Saccardi e il Consiglio regionale hanno dato disponibilità proprio in questo senso omeanci Toscana stiamo cercando di lavorare celermente in maniera approfondita per rispettare la vera sensibilità e caratteristica dei territori c'è proprio in essere insomma di fatto una campagna d'ascolto rispetto ai primi cittadini che speriamo di poter dare il nostro contributo alla regione per definire al meglio la riforma grazie Chieny grazie Bernardini vi abbiamo dato questo spaccato dei comuni che verranno continueremo a seguire questi vari percorsi passo dopo passo grazie ai nostri ospiti a voi per averci seguito come sempre grazie a tutti grazie a tutti